La vicepresidente della Regione Toscana Monica Barni e il rettore dell'Università di Firenze Luigi Dei hanno partecipato alla consegna al Polo delle Scienze Sociali dell'Università di Firenze della Carta Unica dello Studente Toscano, pensata dalle Università di Firenze, Pisa, Siena, dall'Università per Stranieri di Siena e dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio per dare accesso ai servizi sul territorio a tutti gli studenti degli Atenei Toscani, a prescindere da quello di appartenenza, dalle mense alle biblioteche e già si pensa a nuovi servizi. Tra poco implementeremo di nuovo la carta, ancora la carta con servizi culturali e servizi per la salute perché appunto l'obiettivo è quello di una sempre più forte cittadinanza studentesca. La carta unica consegnata agli studenti sostituisce tutte le carte esistenti e a Firenze, grazie a un accordo con il Comune, la carta permetterà anche di usufruire dei trasporti pubblici. Culmine, ha detto il Rettore dell'Ateneo Fiorentino Luigi Dei, del processo di integrazione dei servizi. Abbiamo questa grossa novità di questo accordo fra la Regione, l'Università, l'Azienda per il Diritto allo Studio e il Comune di Firenze, in cui grazie a un contributo volontario di 48 euro, gli studenti potranno circolare su tutti i mezzi pubblici sia del territorio comunale che anche di qualche zona fuori dal confine del Comune. Questo ha una valenza davvero importante in termini di sostenibilità ambientale.